E' l'ora della torta, gente! Certo che avete un debole per le torte! A chi non piacciono? Oh, che cos'hai nella tua? Oh, wow, mirtilli! Che schifo! Rilassati, mi sono lavato le mani! E io ho appena perso l'appetito! Ah, mamma mia, Yai fa le torte migliori di tutta Jump City! Chissà qual è il suo segreto? Dicono che dentro le torte ci metta le persone! Oh, sì! Qualcuno legge troppo favole! No, io credo invece che l'ingrediente segreto sia l'amore! E' ora di parlare di qualcosa di molto importante! E' il compleanno di qualcuno! Oh, sì, sì! Io organizzerò le festività della nascita di Cyborg personalmente! Senza offesa, Stella, ma è meglio che ci pensi qualcun altro! No, dai, ti prego, fammelo fare! Ti prometto che imparerò tutti gli usi e costumi della Terra! La festa può anche essere scadente, purché non lo siano i regali! E io so esattamente che cosa si aspetta il mio migliore amico! E scommetto non è quel videogame a cui un certo organismo cibernetico ha fatto sottilmente cenno più e più volte! Videogame? Ehm... E' proprio il nuovo videogame! Quello che costa un sacco! L'unico che sai che non mi potrei mai permettere! Sì, è quello che ti ho preso! Ed è per questo che sei il mio migliore amico! Ed è per questo che sei il mio migliore amico! Ma non posso permettermi il gioco! Allora trovate un lavoro, no? E un lavoro mi troverò! Per te, allucinazione di cyborg nella vetrina! Oh, wow, bolle! Ed ecco perché, signore e signori della giuria, l'imputato è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio! Cosa? Io dovrei difendere l'imputato? Oh, che schifo! Schifo, schifo, schifo! Ma che cos'è questa roba molliccia? Cioè, questo è quello che c'è dentro la gente? Però... Oh!